www.ilald.com www.ilald.com L'astitugio sull'ursone www.ilald.com Quanto è improvvisa? Io ho il pool. Io ho il pool. 1 2 1 2 1 Carica, 1-3-5 Pronto, boss, 1-3-5 Carica, 2-4-6 Papere, pulite i fiorellini Sbalza Una papera sotto il boss grosso Smi, prendi quei fiorellini verdi E poi vieni tu sotto il boss grosso Vai, spaperati Perfetto Pronti, gruppo 1-3-5 La carica Perché ce l'ho io? Raggi in 3-2-1 Gruppo 1 Carica 2-4-6 Carica 1-3-5 Carica 1-3-5 Devo farla caricare sulla driade Occhio che attraverserà la stanza Al boss 1-3-5 Carica Occhio non star davanti Carica 2-4-6 Tra 3-3-3-5 2-4-6 Papere pulite i verdi Davanti Carica 1-3-5 Tra poco Carica 1-3-5 Carica 1-3-5 Capere pulite il centro Capere pulite il centro Papere pulite il centro Paperatevi fuori Non c'è necessario di stare sotto il boss Dispel Pronti ad entrare nei pozzette verdi Entrata nelle pozzette verdi Finchè non vi sparisce il Bebà Ok Pronti col shock 2-4-6 Della carica Chi ha quello lì? Beppe No Zizza Dei pulirti Valterra Dei puliti Ah no Qua il ferro dovesse essere a posto Carica 2-4-6 2-4-6 Guardate le percentuali Restate volto per 3 secondi Carica 1-3-5 Occhio guardate dove lo faccio caricare Chi è Fudo? Voldo Ah Ok ma che personaggio è Fudo? Voldo Vudo Retail Ok Una papera pronta ad andare sotto il boss Le percentuali van bene Vado io Vai te Vai te Edo sotto il boss Le altre paper fuori Pulite Così Ottimo Prendo io Gioca Sei paperato Vieta davanti Carica 2-4-6 Fate un po' la triade 2-4-6 2-4-6 Fate la triade Ok fate pip ora Primo gruppo di charge Carica 1-3-5 Ok è morto Pip Finito pip Finito la triade E' andato Prisci Pip trinket C'è Grazie a tutti Grazie a tutti.